Natale in piazza San Massimo 2019, questo è il titolo della rassegna promossa dal gruppo commercianti San Maxi di San Massimo e Croce Bianca in collaborazione con il Paianini Center. Si parte domenica 8 dicembre e si chiude appena prima di Natale il 22. Una gara di solidarietà per Tommy, il bimbo veronese affetto dai tiosi, la malattia genetica che colpisce la pelle. In nome del piccolo e anche in nome del Natale, 48 esercenti del quartiere si sono federati per una manciata di settimane, superando invidie e concorrenze. Hanno redatto un calendario ricchissimo dedicato specialmente ai bambini, che trova spazio di espressione pure nel tempio del rugby scaligero. Non vogliamo che la struttura sia una cattedrale nel deserto, ma un centro a disposizione del quartiere, hanno chiarito le voci del Paianini. La location del primo laboratorio per bambini, dedicato alla ricchezza della diversità, si terrà domenica 8 proprio nel complesso sportivo che ha da poco compiuto un anno di vita. Il rugby lo insegna sul campo, il gruppo commercianti San Maxi per le strade del quartiere lo mostra bene. L'unione fa la forza davvero sempre. I commercianti si sono uniti facendo rete appositamente proprio per avvicinare la gente e tenerla nel suo territorio. Quindi non più individualismo, individualismo a casa o individualismo nel negozio, ma una pluralità, un incontro tra la gente e per la gente.